Io sono un'automobilista, lo sono da tanti anni, non mi ricordo neanche più da quanti, ed essendo un'automobilista sono sempre costantemente incazzato come una bestia. Lo sono sempre stato, oddio, oddio, i primi tempi no, io quando ho preso la patente era tutto diverso, intanto le macchine facevano quel bel rumore, le marmitte buttavano fuori quel bel fumo nero, e poi si parcheggiava dovunque, in piazza Duomo a Milano, in piazza Navona a Roma, e poi si andava in giro felici, liberi, senza cinture di sicurezza, senza poggiatesta, senza airbag. Infatti quando facevi un viaggio di solito si diceva quando arrivi chiama, perché non era sicuro che arrivavi in colume, però era bello, si fumava in macchina con i finestrini rigorosamente chiusi e a fare da filtro i bambini sdraiati nell'unotto dietro. Non c'erano telecamere per cui ti poteva capitare di prendere un rosso, dovevi avere proprio la sfiga che ci fosse il vigile lì dietro e allora ti fermava, è passato col rosso, no era giallo, era rosso, era giallo, vada, 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 circolare. Che meraviglia. Invece poi è cominciata la deriva, sempre più proibizioni, sempre più controlli. Poi adesso sta per uscire il nuovo codice della strada, quindi ci dobbiamo preparare a nuove umiliazioni. Però, però attenzione, forse c'è una notizia buona, ogni tanto una gioia. Sembra che questa storia dei 30 km orari in città, questo limite, forse l'abbiamo scampata. Sì, perché, voglio dire, va bene la sicurezza, per carità, però a tutto c'è un limite. E il mio non può essere 30 all'ora. Non può essere 30 all'ora. Io non ci riesco ad andare a 30 all'ora. Non è nelle mie corde. Non ci riesco proprio ad andare a 30 all'ora. L'unica volta che vado a 30 all'ora e rallento a 30 all'ora è quando devo lasciare i miei figli a scuola. Li faccio scendere così, al volo. Li ho abituati così, perché tengano il ritmo. E gli va bene perché adesso vanno alle medie. Perché poi, alle superiori, alziamo l'asticella. No, invece ci sono state un sacco di polemiche. Un sacco di polemiche, eh, ma è una regola per garantire la sicurezza. Perfetto. E allora la domanda da farsi è una sola. È più importante la sicurezza dei pedoni o quella degli automobilisti? Risposta, quella degli automobilisti. Perché io, quando mi metto in macchia, voglio essere sicuro di arrivare in tempo agli appuntamenti. Non so, ci sono le statistiche, me le sono segnate. Queste sono statistiche, sono numeri veri, eh. Sono numeri dell'OMS. Cioè, se si passa dai 50 all'ora ai 30 km all'ora come limite, le probabilità che ha un pedone investito da un'auto di non farsi veramente male salgono dal 15% a quasi il 90%. E questi sono numeri incontestabili. E io dico, perfetto, non lo discuto. E mi chiedo, perché non essere più coraggiosi e adottare una soluzione più radicale che metterebbe d'accordo tutti, anche i radical chic. Si va dal pedone e gli si dice, caro mio pedone, vuoi non il 90%, ma il 100% di probabilità di non farti male? Stai a casa. Perché devi andare in giro? A fare cosa? Perché devi andare in giro? Se hai tanto bisogno di camminare, vai su e giù per il corridoio. Non hai il corridoio. Vai su e giù sul balcone. Non hai neanche il balcone. E allora vuol dire che ti sei intignato di avere un buco in città e per forza devi andare a sgranchirti in giro. E allora fai una scelta più radicale. Una scelta anche per il pianeta. Vai a vivere in campagna. Vai a vivere in campagna e lì puoi sgranchirti quanto vuoi. Puoi camminare, non corri pericolo. Nessuno ti può investire. Forse è giusto un trattore. Ma allora lì sei tu che devi essere un po' attento, cazzo. Perché... Naturalmente... Io ne avrei tante altre di proposte, di ammendamenti. Non so se c'è il tempo. Ne avrei almeno un paio. Una per esempio è per risolvere il problema del parcheggio. Che è diventato tragico. Perché oltre al problema di spazio che c'è, adesso le isole pedonali si mangiano lo spazio. Mettono due fioriere ed è fatta. E tu non hai più spazio. Allora io dico abolire i passi carrai. Abolire i passi carrai. Almeno di notte. Quelli che scrivono lasciare libero il passaggio anche di notte. Ma statene a dormire di notte. Cosa vuoi fare? Il fanatico che ogni due ore viene a controllare il suo parcheggiato. Riposati e vivrai meglio. Altra proposta. Cancellazione delle strisce pedonali. Cosa servono le strisce pedonali? L'abbiamo visto. Tanto il pedone è sistemato. O è a casa che va sui fuori il corridoio. O è in campagna. Speriamo che non sia stato stirato dal trattore. Ma soprattutto le strisce pedonali non sono nelle nostre corde. Cioè noi italiani non le capiamo da sempre. Le strisce pedonali non sono... Noi abbiamo delle caratteristiche. Dobbiamo anche esserne orgogliosi. Non siamo in un momento nel quale si cerca di rivalutare la bellezza di essere italiani. Siamo o non siamo una nazione? E noi abbiamo delle caratteristiche. La strisce pedonale... Noi non mica siamo gli svizzeri. Se voi andate in Svizzera, li vedete gli svizzeri. Le strisce pedonali. Gli automobilisti si fermano molto prima. Anche se non c'è nessun pedone che deve attraversare. Magari vedono uno nell'atrio di un condominio che sta uscendo. e gli chiedono se vuole attraversare. Oppure scendono dalla macchina e vanno a citofonare. Deve passare? Deve passare? Strisce pedonali? No, grazie. Esco fra due ore. Allora ripasso. C'ho ancora tempo? Una ultima? Certo. Questa mi sa qui non c'entra tanto... Non c'entra tanto con la strada, ma c'entra col decoro. E c'entra con quella qualità che io vado cercando. Abolire per sempre le rotatorie. Basta con le rotatorie. Perché anche queste non sono cosa nostra. Abbiamo copiato i francesi. I francesi fanno le rotatorie, le rotatoire. Ma perché hanno spazio. Hanno spazio. Le loro rotatorie sono grandi. Da noi ci sono certe rotatorie, in Liguria, nei centri, sembrano le presine all'uncinetto per prendere la caffettiera al mattino. E poi i francesi hanno la grandeur, cioè sono grandi dentro, pensano in grande. In queste grandi rotatorie al centro ci mettono delle cose importanti, degli alberi, delle foreste, monumenti, archi di trionfo. Noi non sappiamo mai cosa mettiamo delle sculture inguardabili, i sette nani fatti con le marmitte dei motorii. Oppure mettiamo quattro piantine depresse e un cartello con su scritto in questa rotonda il verde è curato da Garden 2000. Ma lo devo segnare sto nome, Garden 2000. Piuttosto che farti curare il mio giardino, lo asfalto, cazzo. Ne avrei così altri diamendamenti, ma... Genedix! Li voglio proporre! Grazie! Grazie! Genedix! A Propaganda Live! Grazie mille!